Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai un figlio, lo darai alla luce, e chiamato figlio dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo. Com'è possibile? Scegli me perché non ho mai conosciuto un uomo. Così sia di me secondo la sua volontà. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.